Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati, vediamo come analizza il mercato un professionista e parliamo di una strategia molto molto inflazionata ma che sicuramente nasconde grandi insidie e sicuramente porta a casa dei brutti risultati. Allora, vediamo Roma-Inter, il match che mi interessa oggi in maniera molto molto dettagliata, qui vediamo gli indisponibili, la Roma sappiamo che è indisponibile Petro come potete vedere e a parte l'assenza di D'Ambrosio l'Inter comunque può contare quasi su tutti i titolari. L'Inter rimane comunque favorita per la vittoria finale, l'abbiamo visto adesso con le vuote, adesso si vede meglio con la comparazione vuote e con i testa a testa vediamo un po' che la Roma è una squadra che solitamente riesce a portare a casa più di due gol a partita, sia a realizzarli che nei match più importanti, con i big match riesce a prenderli. L'Inter vediamo qua è una squadra che alterna over a under e qui vediamo un dato molto interessante, 5 pareggi consecutivi negli ultimi 5 scontri diretti fra Roma-Inter e questo è un dato molto interessante perché ci fa capire qual è un certo tipo di logica che dobbiamo andare a seguire. Allora, questa è la classifica, la Roma ovviamente cerca di rimanere in Champions League, l'Inter punta a raggiungere lo scudetto, quindi ovviamente un obiettivo molto ambizioso ma nelle corde della squadra di Conte e per quanto riguarda invece la Roma avrà, dicci certo, nel prossimo duro un avversario molto scomodo, il derby con la Lazio mentre l'Inter dovrà affrontare la Juventus. Quindi è una fase della stagione molto molto delicata ed è una fase della stagione dove le squadre dovranno tirare fuori il meglio di loro, visto che poi tra poco ci saranno anche sia la Coppa Nazionale ma oltretutto anche le competizioni internazionali. Quindi queste sono informazioni dei quotidiani che Diretta.it ritiene più affidabili, insomma dei giornalisti che riescono a portare a casa degli articoli secondo Diretta.it interessanti e quindi entriamo nel vivo dell'analisi che conduce un professionista. Attenzione, parto subito da una precisazione. Purtroppo si vedono tanti ciarlatani, tanti guru che non hanno mai guadagnato profitti dal mondo del trading sportivo, non si cimentano la materia, che cercano di insegnare strategie totalmente fallimentari che mai nessun professionista ci sognerebbe di utilizzare. Faccio per dire la strategia banca il pareccio. Tanti arti ciarlatani invece non solo spiegano, ma lo fanno in maniera totalmente ridicola, ma soprattutto quello che è la cosa più negativa è che modificano ultimamente i screen, non mostrano mai i codici delle loro operazioni, né mostrano dei video veri, ma che modificano costantemente. Quindi sono dei veri e propri ciarlatani e questi ciarlatani vengono accumulati dal fatto di vendervi delle strategie totalmente fallimentari come la strategia banca il pareccio. Soprattutto perché? Perché se guardiamo a questo match, un ciarlatano ti dirà che guardando agli ultimi 5 precedenti, agli ultimi 5 precedenti e quindi vedendo agli ultimi 5 parecci, si potrebbe pensare che la strategia banca il pareggio sia la migliore, proprio perché statisticamente, ancora parliamo di statistiche, i ciarlatani sono molto fedeli alle statistiche, statisticamente è probabile che capiti 6 pareggi consecutivi nei precedenti di queste due squadre. E quindi è una cosa molto importante quella da capire che questa logica stupida sulle statistiche porta lo scommettitore a prendere delle decisioni totalmente sbagliate. Queste decisioni derivano da corsetti, da finti guru, finti formatori che ti dicono che è possibile vincere utilizzando delle strategie meccaniche. In questo caso la strategia banca il pareggio è totalmente stupida. Perché sì, è vero che statisticamente è improbabile che queste due squadre nel prossimo precedente, quindi facciano nuovamente un pareggio, ma quello che deve fare un professionista è andare a analizzare il mercato e ricercare valore. Tra l'altro, tra l'altro, queste sono due squadre, questo match potrebbe finire addirittura 4-0 per una delle due squadre. Però qual è il discorso? Il discorso è che un professionista opera per valore e che le strategie meccaniche lasciano il tempo che trovano. Io, indipendentemente dal risultato finale di questa partita, questo tipo di strategie le ritengo totalmente fallimentari e così come le ritengono tanti altri professionisti con cui ho il modo di intrattenermi molto spesso. Quindi questa strategia non ha alcun senso. Poi magari, ragazzi, vi ripeto, può finire anche 4-5-0 per una delle due squadre, quindi addirittura un'imbarcata. Però quello che lascia a tendere è che la strategia anche il pareggio fa veramente schifo, non serve a niente, porta solo a danni certi. Soprattutto queste sono le partite paradossalmente più insidiose, quelle che per questa strategia sarebbero, o meglio i guru così le definiscono, delle partite perfette che invece potrebbero rappresentare una vera e propria mazzata per la vostra cassa. A parte questo, entriamo nel vivo del discorso. Innanzitutto, la Roma torna Ticuomini a disposizione come Spinazzola e come Dzeko. Abbiamo delle incertezze sul centrocampo, bisogna capire chi giocherà fra Villar e Cristante. Penso Verduzzi a titolare. L'Inter comunque ha quasi tutti i titolari. Ha Lukaku e Martinez davanti in spinta, quindi ovviamente ci sono dei giocatori che possono segnare molte reti. e la Roma fa nel suo gioco, crea molte occasioni da tirare a lontano. È una squadra che riparte spesso in contropiede, giocatori di qualità che vanno a puntare l'uomo. E l'Inter soffre ultimamente per quanto riguarda quello che è la gestione della difesa, soprattutto quando deve difendersi da possibili contropiedi, squadre di qualità come la Roma. Il duo là davanti, Martinez-Lukaku è veramente letale, ma Fonseca ho visto metterà, come già nei altri precedenti, Smalling a marcare Lukaku. E la squadra comunque dell'Inter ultimamente sta incappando in alcuni gol di troppe e qualche disattenzione difensiva. La Roma abbiamo già visto che con le grandi squadre rischia di prendere tanti gol. L'abbiamo visto con la Juve, con il Milan, l'abbiamo visto con l'Atalanta, soprattutto con il Napoli. Quindi adesso andiamo sul mercato dell'exchange e piazziamo l'operazione che io reputo più opportuna. Qui andiamo sul mercato di serie A, eccoci qua, e prendiamo il match che ci interessa, che inizia veramente fra poco. È Roma-Inter, quindi prendiamo over 2,5, 1,67, una grande quota di valore, e puntiamo 150 euro. Con un profitto potenziale di circa 100 euro. Quello che ci interessa a noi è aver trovato nuovamente valore operativo sul mercato e soprattutto aver allontanato quelle che sono le strategie dei charlatani come banca, il pareggio e questa roba qua, che non serve assolutamente a niente. Come vedete l'operazione è stata puntata. Vedremo e cercheremo di capire dopo come sarà andata l'operazione e cosa vuol dire analizzare il mercato in maniera professionale. Va bene ragazzi, ci vediamo dopo e cerchiamo di capire se l'analisi è stata corretta. Ciao! Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati. Allora, andiamo a vedere come si è sviluppato il match perso in considerazione. Adesso vi sto facendo in questo momento il video perché ho seguito Udinese Napoli e quindi non ho avuto tempo. Ritaglio un minimo di spazio per spiegarvi un po' in maniera dettagliata e per farvi vedere come è andata questa analisi. E poi dopo bisognerà seguire assolutamente Juventus Sassuolo che è un altro match molto interessante. Lo faremo sicuramente con Pro Trading. Allora, Roma-Inter. Apriamo questo match. Allora, prima cosa interessante. Va bene, sì, che comunque mi aspettavo un gol nel primo tempo della Roma che comunque è sempre partita forte l'avevamo già detto. L'Inter con 1-2 pazzesco è riuscita a mettere sotto la Roma. Il pareggio della Roma fino a ciò guardando seguendo la partita un po' mi ha sorpreso non mi aspettavo la reazione della Roma però c'è un dato interessante. A parte che qui sono 6 segnati 4 gol e noi ne servivano 3 quindi perfetta l'over 2 e mezzo. Però ragazzi, vedete manco a farlo apposta guardando poi a quello che avevamo parlato prima delle statistiche questo match è finito 2-2. Cosa vuol dire? Che chi aveva bancato il pareggio in questa situazione si è trovato a dover gestire una situazione veramente veramente ai limiti del paradossale ma soprattutto se quasi guardavano le statistiche sarebbe stato quasi impossibile trovare un risultato di questo tipo. Eppure succede e capita questo dovrebbe essere il sesto pareggio consecutivo fra queste due squadre e negli ultimi 6 precedenti il che comunque è una cosa abbastanza insolita ma che comunque dimostra ancora una volta quanto la strategia banca al pareggio sia totalmente fallimentare. Adesso vi ripeto questa partita potrebbe finire in tutti i modi del mondo però qual è il concetto? Il concetto è che si opera per valore che è un professionista per ricercare valore sul mercato una quota 1,67 era spettacolare l'over 2,5 se vedete poi questa poi è l'unica se riesco a tirare giù questo è l'unica partita che nella giornata di oggi è finita in ha avuto due gol cioè ha avuto quattro gol le altre hanno avuto due gol massimo tre gol comunque quindi è un match che ha visto quattro gol in serie rispetto a tutte le altre quattro le altre tre partite quindi è un match che ha visto più gol stiamo parlando ovviamente dell'ennesima operazione portata in profitto un'altra operazione portata a casa in pro trading dove operiamo esclusivamente sulle quote di valore dove pubblico costantemente i miei risultati oltre che con video di questo tipo ma mostro su facebook soprattutto adesso lo farò anche su instagram quelle che sono le operazioni di mercato condotte in linea totalmente con quello che è il prodotto il prodotto pro trading ed è un prodotto a cui stiamo macinando adesso abbiamo sei operazioni di fila inattivo sei operazioni condotte con estrema precisione sei operazioni di valore quindi la strategia banca il pareggio in questo caso ci ha dato l'onissima dimostrazione di fare letteralmente schifo di non avere nessun fondamento matematico di essere totalmente logica e prima di ogni tipo di buonsenso proprio perché non si può applicare una strategia meccanica in questo modo su un mercato dinamico e soprattutto senza conoscere le squadre senza osservare l'andamento del match in live senza avere una competenza tecnica sul mercato di valore perché utilizzare questo tipo di strategia in maniera meccanica porta ovviamente a morte certa del proprio capitale questo non vuol dire che utilizzare questo tipo di strategie porta sempre a perdere denaro ma vuol dire che nel lungo periodo senza sicuramente avere una competenza e un modo giusto di farsi le ossa sul mercato porta inevitabilmente e sicuramente a perdere tutta la propria cassa tutto il proprio budget tenesima operazione portata in profitto io vi avverto che comunque in questo periodo storico ho deciso ovviamente come avevo già preannunciato con tanti clienti di aumentare il prezzo di pro trading quindi avete pochi giorni per acquistare questo prodotto professionale che adesso costa 40 euro per 50 analisi di valore quindi stiamo parlando di un prodotto assolutamente a un prezzo ridicolo qui c'è un lavoro pazzesco stiamo parlando di un prodotto che costa meno di un euro d'analisi è un prodotto che ovviamente vedrà drasticamente crescere il suo prezzo è un prodotto che potete acquistare nel link che metto qua sotto su questo video insomma in descrizione e su questo link ovviamente troverete l'e-commerce della nostra azienda dove vedere tutte le specifiche del prodotto ed eventualmente acquistare il prodotto stesso qua sotto come sempre lascio anche la possibilità di contattarmi privatamente su Telegram e di vedere in maniera dettagliata e di parlare in maniera abbastanza dettagliata e vicina con un professionista in modo tale da impostare la strategia di investimento migliore per le vostre esigenze io ragazzi vi saluto vi rinvio ai prossimi video ennesima dimostrazione di come un professionista opera sul mercato e innesima dimostrazione di come non si opera sul mercato e di tanti ciarlatani su cui dovete fare attenzione ah una buona notizia ragazzi allora so che molti molte persone si stanno muovendo si stanno muovendo sono partite tante denunce nelle ultime settimane per tutti questi grandissimi ciarlatani quindi si stanno muovendo stanno facendo un ottimo lavoro perché dopo aver ricevuto innumerevoli truffe da parte di queste persone è arrivato il momento di darci un taglio e questo è un gruppo di persone si sono riunite proprio per tagliare le gambe a chi continua ad infangare il buon nome del trading sportivo che continua ad infangare il nome di professionisti abili veri sul mercato che lavorano seriamente che offrono al cliente servizi estremamente professionali e che offrono una strategia di investimento quindi questo è sicuramente una cosa molto positiva perché una buona parte di quelle persone che purtroppo sontuariamente ha perso denaro con questi ciarlatani questi truffatori finirà per non perderlo più quindi molto molto bene sono molto contento questa è un'ottima notizia ragazzi io vi rinvio ai prossimi video e vi invito come sempre a condividere il verbo del professionismo ed iscrivervi a questo canale youtube va bene ragazzi ciao